In un mondo pieno di Spider-Man, Captain America, Batman e tanti altri, finalmente anche Biella potrà vantare di un supereroe, anzi di una supereroina ufficiale. Il numero zero di Orsa Maggiore, con la protagonista Brunella Masso legata alla leggenda dell'Orso biellese, verrà presentata sabato 18 dicembre, alle ore 16 presso Palazzo Ferrero, grazie alla collaborazione dell'Università Popolare biellese. Creata dai due fumettisti Gloria Meluzzi e Andrea Osella, ora la nostra supereroina è pronta al grande debutto. I due artisti hanno definito la loro opera come una lettera d'amore al fumetto supereroistico degli anni Ottanta e al nostro biellese. Durante la giornata di sabato 18 dicembre, gli autori racconteranno le origini del progetto, i suoi retroscena e chi vorrà potrà personalizzare la propria copia con uno sketch a richiesta creato al momento.